Sì eccoci siamo qui a Borgomarina con un fortunato scordo di Sirio Star e Piero De Negri rappresentante del Cive di Borgomarina. Oggi c'è il saluto delle miss che partiranno per la finale di Miss Italia a Jesolo e soprattutto alle nostre spalle c'è la gara del pesto organizzata oggi a Borgomarina. Un'iniziativa che ha fatto conoscere Borgomarina e le ragazze non solo in Liguria ma anche tutta la nazione. Sì diciamo che questa iniziativa è molto bella, molto folcloristica per molti versi però è molto seria nel senso che si basa su un prodotto molto rinomato nel mondo che è il pesto nero. Noi vogliamo con le nostre bellezze che abbiamo lì presente alle nostre spalle portare a Jesolo proprio questa specialità del pesto di Borgomarina fatto lì, fatto dalle miss, quindi è una cosa importante. Abbiamo coinvolto tre ristoratori della zona per coordinare il lavoro eccetera e pensiamo che il meglio di questo da portare a Jesolo non ci sia anche per richiamare tutti gli aspetti culinari e non gastronomici che le nostre zone possono dare. E al stesso tempo la bellezza perché sono prodotti dalla natura e la natura crea ovviamente questo senso. Pensiamo che sia un assaggio che avviamo avanti nel mondo e nell'Italia. Fortunato scordo il pesto verrà portato direttamente a Patrizia Merigliani. Ma assolutamente sì perché questa è un'iniziativa che è stata subito accolta come un parere favorevole da tutti perché è una cosa bella e in fondo poi ci rappresenta. Noi siamo la Liguria. In Liguria a parte il pesto ci sono tante altre realtà locali che sono molto belle ma i nostri prodotti dall'olio, dal vino, da qualsiasi altro prodotto creato in Liguria e sono all'avanguardia in Italia. Quindi questa iniziativa che è stata proposta da un amico che devo dire che io ho subito sposato e poi creata insieme a Gianmarco Nelio del CIV è di creare questa situazione per portare la nostra immagine a Jesolo. Allora noi siamo la Liguria e indipendente perché siamo una località turistica marittima balneare noi abbiamo dei prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. E un prodotto in assoluto è il pesto. Allora noi regaleremo alla signora Patrizia Migliani il pesto fatto in casa direttamente con prodotti originali, con gli attrezzi originali a Jesolo quando le ragazze, le prefinaliste nazionali di Miss Liguria, arriveranno a Jesolo il primo di settembre. Quindi la signora Migliani avrà un barattolo creato con le mani delle sue visse, con l'etichetta di Borgo Marina, che è importante, del pesto. E alla signora Patrizia Migliani vi posso garantire che il prodotto è genuino, come tutti i prodotti della Liguria. Grazie.